I lavori di rimozione della Posidonia sulla spiaggia del Lido Azzurro di Agropoli, la nota pianta marina che invade da anni gli arenili agropolesi e sottoposta alle operazioni di vagliatura. Si effettua dunque la procedura di lavaggio dell'accumulo per poi procedere alla separazione della sabbia, che sarà riutilizzata per il rifacimento della spiaggia, da quelle che sono le foglie della Posidonia, comunemente definite alghe che, secondo la legge salvamare, possono essere trattate in tre modalità. La reemissione in mare, il riuso ed utilizzo in biogas ed in agricoltura, oppure essere soggette allo smaltimento diretto. Gli addetti ai lavori rassicurano sull'avanzamento degli stessi e sono fiduciosi sulla buona riuscita dell'operazione, Agropoli, che di recente ha ricevuto il riconoscimento nazionale plastic free e le cui acque sono state ancora una volta premiate per la loro limpidezza, punta dunque a ridare ai residenti quanto ai turisti un litorale delle spiagge libere dalle grandi dune di Posidonia, che, malgrado le apparenze, attesta e certifica comunque la qualità del mare e la purezza delle sue acque. Allo stato attuale dei lavori, come procedono? I lavori vanno tutto bene, tutto è gonfiavela, stiamo lavorando per i cittadini di Agropoli, c'è molta sabbia in queste alghe e si sistemano pure le spiagge. Quanto tempo ci vorrà? Un po' di tempo ci vuole, un po' di tempo ci vuole perché è molta roba. Come si stanno svolgendo le operazioni? Tutto bene. Che procedure utilizzate? Noi a procedure che stiamo lavorando tutti i giorni, miracolo non lo possiamo fare, le grazie le facciamo. Presenti sul posto anche alcuni turisti, ospiti abituali della cittadina agropolese, che hanno assistito alle operazioni di pulizia della spiaggia esponendo il loro punto di vista al riguardo. Noi siamo frequentatori abituali di Agropoli e del Cilento e tutto quanto. Questa spiaggia ha sempre sofferto per quello che storicamente, lo sguardo dei miei occhi mi dà come dato consolidato di questa poseidona che è spiaggia. Allora, i miei sentimenti, i sentimenti di tratta, non di chissà cos'altro. La poseidonia mi dà l'idea del mare buono che c'è da queste parti. D'altra parte però dà sicuramente fastidio a chi ci abita perché dopo un po' con un lezzo, una puzza si sente. E anche lo stesso bagno, l'anno scorso, due anni fa, tentammo di fare un bagno d'acqua di mare ma la poseidona ce l'ho impedito. Quindi io sono contento che ci sta una delibera, ho letto che stava fissa, che prevede un intervento da parte del comune. È un primo passo. Poi non so se si utilizzeranno le biomasse perché se questo sarebbe una cosa bellissima per il nostro sud, per il nostro Cilento, ma andrei orgoglioso dell'utilizzo delle biomasse marine. Altra cosa è se fanno un setacciamento per la pulizia di spiaggia. Comunque è un intervento che era auspicabile e sono contento che c'è.